E sempre in tema automobilistico, Helicon Tex Automotive Med Kit, un kit medico per la macchina. Lo dicevamo prima, l'automobile può diventare la nostra seconda casa, il nostro secondo ufficio. Beh, è davvero molto importante che riusciamo ad avere in macchina bene organizzato un kit medico. Ecco, spesso l'automobile è anche il punto di arrivo a fine escursione, dove uno scopre che si è fatto male al piedino, che ha la zecca, che ha il taglio da sistemare da due giorni perché non aveva il kit. Ma io penso che tutti noi, almeno la community di Backpacko, ha ben presente quando è fondamentale organizzare un kit medico in macchina. E come facciamo? Beh, le soluzioni sono tante, dipende dal tipo di emergenza che vogliamo fronteggiare. Spesso ci sono delle borse più grandi, come l'UCR Ifac D511, spesso ci sono delle borse più piccole, come Trauma Kit tattici specifici. Questa è una via di mezzo, questa è la via di mezzo per eccellenza. Helicon Tex ci propone il suo Automotive Med Kit. Prima guardiamocelo all'esterno, perché come deve essere fatto un kit medico specifico per le automobili? Beh, di sicuro deve avere diverse maniglie per poterlo afferrare e tirare. Di sicuro queste maniglie devono essere ben visibili e le abbiamo catarifrangenti. Al centro un bellissimo pad in velcro per applicare una patch, chiaro, una luce, ok, ma se non applichiamo nulla, ecco che ha un inserto catarifrangente. Ma quanto è catarifrangente? Beh, proviamolo con una torcia da ricerca, forse è anche un po' troppo in questo momento. Beh, funzionano davvero bene. Immaginiamo una situazione in cui dobbiamo accedere al nostro kit all'interno dell'auto o nel portabagagli. Ebbè, dobbiamo vederlo, dobbè, dobbiamo vederlo subito, afferrare la maniglia, cosa più importante, e tirarlo via. Una volta che l'abbiamo tirato via, potremmo utilizzare questa cinghietta come tracolla. È una cinghietta che si allarga al doppio di questa lunghezza, fatemi trovare la posizione della regolazione, eccola qui. Vedete come effettivamente si allarga e posso portarlo a tracolla. Anche questo, che sembra un anvezzo, una comodità, può essere davvero utile. Perché se devo recarmi nel luogo di un incidente, magari ho bisogno di portare sì il kit, ho bisogno di portare una torcia, ho bisogno di portare dell'acqua, ho bisogno di portare l'estintore. No, e poi come faccio a tirare fuori tutto dalla macchina e devo fare sei viaggi prima di arrivare sulla zona? Ecco, in questo modo posso effettivamente prendere anche il kit medico e metterlo a tracolla. Ma noi adesso rimuoviamo la tracolla ed ecco qui, perché vi devo mostrare come è fatto sul retro. È probabilmente la parte più importante. In automobile o montiamo noi dei pannelli in velcro, ma molte auto, ad esempio la mia, in diverse posizioni hanno un rivestimento che è un amore da usare con il velcro. Ecco, allora è velcro serio, quindi questa operazione deve farci soffrire. Ormai è una regola che noi di Backpacko conosciamo bene. Se il velcro è buono dobbiamo soffrire. Ecco qui, è buono ed è tanto. Come potete vedere in questo momento ho aperto i pannelli e ho a disposizione del velcro duro o morbido, a seconda di come devo bloccare la tasca medica all'interno dell'auto. Io lo rimetto a posto. Potrei decidere tranquillamente di tenerla così da una parte, magari nel bagagliaio, magari sotto un sedile, per poter afferrarla e tirarla senza resistenza. Ora però guardiamoci com'è dentro. Ah, zip YKK con cursori rossi. Vale per tutte le colorazioni, qui ne vedete solo qualcuna, ma tutte disponibili su Backpacko.it. Le zip di un kit medico, lo sapete, devono scorrere, si devono aprire facilmente e devo poterle afferrare in un momento di panico, in un momento di bisogno. E quindi queste sono le migliori YKK con questi maniglioni, con queste impugnature che mi permettono di afferrarla. Sia col ditino dentro, se riesco a coordinare i movimenti, ma anche in questo modo, in qualsiasi modo, le posso afferrare e aprire accedendo al contenuto dell'iFAC. Potrebbe venirvi in mente anche di portarlo come iFAC, come kit di primo soccorso individuale? Beh, sicuramente sì, però è un po' grandicello, quindi magari, ecco, guardiamo com'è fatto dentro. Ve lo mostro vuoto, perché è davvero pieno di caratteristiche e le dobbiamo guardare tutte. Qui avete una serie infinita di elastici per i piccoli oggetti. Quindi, fiale, fialette, flaconi, torce, cialum, accendini, tutto quello che vi può servire, siringhe, chiaro, potete utilizzare questi elastici per sistemarlo. Sulle fascette elastiche vedete che c'è un cordino elastico anche lui, regolabile dai lati, da entrambi i lati. C'è un nodo qui centrale che blocca le due zone e questo ovviamente è perfetto per i grossi presidi, come una benda d'emergenza, come un vendaggio addominale d'emergenza, come dei tamponi. Poi c'è un pannello centrale che è completamente configurabile, non solo, ma si stacca così con il suo velcro e potete decidere anche di applicarlo qui sotto, no? Quindi, invece di aprirlo, come ho fatto io, al libro, potete sistemarlo così e si apre tutto intero. Fantastico! Questo pannello potete anche rimuoverlo se magari ci sistemate degli oggetti ad emergenza e quindi potrebbe servire lui da solo come IFAC. Molto interessante il porta forbici mediche, che devono essere sempre visibili, e la cosa bella è che io me lo riconfiguro. Ora farò un gran casino, però me lo riconfiguro come mi serve. Quindi qui magari metto le forbici mediche e rimuovendo anche questo elastico, andando a recuperare il porta tourniquet, che è questo qui, ecco che mi sistemo il tourniquet da questa parte. E ad esempio mi sono fatto un inizio del kit per il controllo delle emorragie. Da questo lato mi sistemo altri presidi, con questi mega elasticoni magari dei bendaggi emostatici, e ho la possibilità di afferrare, strappare il kit per la gestione delle emorragie, e portarlo sul luogo senza dover portare tutto il resto. Abbiamo a disposizione anche un elastico tra i due scomparti. Togliamo di nuovo alla dotazione, scomparto superiore e scomparto inferiore. E non c'è dubbio ragazzi che una volta che io ho deciso posso prendere gli inserti in velcro che arrivano in dotazione, tutto quello che vedete è in dotazione con il kit, e montarmi magari su questo pannello un portapenna per l'allergia, per lo shock anafilattico. Quindi è una cosa fantastica. È lui che prende la forma di quello che avete e di quello di cui avete bisogno. Da questa parte, immancabili piccole tasche per oggettini, cerottini, pillolette, medicinali, tutto quello che ovviamente sarebbe difficile da mantenere negli altri scomparti, beh, lo sistemate qui e siete più che a posto. È fantastico questa possibilità, è fantastico questo kit, HeliconTex Automotive Med Kit, disponibile in tantissimi colori su Backpacko.it, dove trovate anche tutta la spiegazione e i presidi medici come le Hexshir, se vi dovessero servire, forbici serie da soccorso, utilizzate dai soccorritori, utilizzate dai professionisti, o dei tourniquet, li trovate di tutti i modi su Backpacko.it nel reparto MedPacco. Vi auguro di fare dei buoni viaggi, dei viaggi sicuri e di essere organizzati per ogni evenienza.